Ciao a tutti e benvenuti in questo video che faccio un attimo quasi d'urgenza perché mi avete chiesto immediatamente appena io ho pubblicato l'alberello di Natale ieri ma i magi che fine hanno fatto, allora ci hai rinunciato e cose del genere allora io come avevo già spiegato precedentemente ma evidentemente qualcuno va bene questa cosa gli è sfuggita ma è normale, questo non è che tutti possono stare a sentire me ogni volta dico qualcosa, però comunque io l'avevo detto che per i magi non c'è bisogno di fare grandi cose nel senso l'importante quando stavamo facendo la situazione qui i magi era realizzare il cammello perché era dei quattro il personaggio che dovevamo proprio realizzare ex novo mentre invece per quanto riguarda i magi non si tratta altro che fare Giuseppe e vestirlo in un'altra maniera non è che dobbiamo stare a rifare ogni volta io adesso non posso rimettermi qua a fare un video con il personaggio questo, poi quell'altro e quell'altro che sono tutti necessariamente uguali a Giuseppe per quanto riguarda l'abbigliamento, adesso vabbè magari ve lo descrivo un attimo però voi potete tranquillamente sceglierlo a piacere, mettere colori a piacere, ornamenti, cose tutto quello che sapete fare, che volete fare, anche più di questo che ho fatto io necessariamente non c'è problema, gli mettete in mano un sacchettino, un... come qua, un... come si chiama un bauletto qua ora argento e mirra e voglio dire il gioco è fatto con baffi, barba, corona se la volete mettere altrimenti mettete un cerchietto qua con il filato dorato, cioè non è che bisogna stare a... a fare grandi cose l'importante è che siano molto colorati, questo anche avevo già detto, perché erano dei re, no? come ben saprete e quindi per differenziarli un attimo dagli altri personaggi del presepe infatti anche il pastorello si può fare nella stessa maniera se voi volete fare un contadinello, un pastore, potete tranquillamente prendere Giuseppe e vestirlo in maniera diciamo semplice, con un grigietto, un marroncino, mettere qua un... un tascapane lì come si chiamavano, quelli là che si mettevano una volta per portare la merenda, così vabbè qui un bastone e fatto il pastorello, ecco, voglio dire non è che c'è bisogno che io stia a ripetere il procedimento per ognuno l'angioletto idem, potete anche utilizzare una di queste e vestirla l'angioletto, però io ho in mente qualche altra cosa comunque, ripeto, anche questo non lo so se lo faccio quest'anno la stella cometa, no, non credo non credo nulla, perché tante volte dovessi fare una promessa che poi non posso in qualche maniera mantenere succede il delirio e quindi preferisco a questo punto non fare promesse comunque, passiamo a guardarli uno per uno, così se volete prendere spunto potete tranquillamente farlo e questo non è un problema allora, vabbè, il cammello l'abbiamo visto in tutte le salse e quindi ci sono due video andateveli a guardare e lo realizzate con semplicità, perché veramente l'ho realizzato molto molto semplice cioè ho cercato di fare in modo che la realizzazione sia semplice questo qua è il primo dei tre magi, si chiamavano, mi pare, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare sì, ecco, quindi Giuseppe come base, no? quindi la testa, il corpo, le braccia sono di Giuseppe poi, a questo cosa ho fatto, il velo, qui che cos'è, il copricapo, ecco, chiamiamolo copricapo come quello di Giuseppe, però l'ho allungato molto di più non dico come quello di Maria, perché quello arriva qua giù però voglio dire un bel pezzo, quello di Giuseppe, se non sbaglio, arriva fin qua quindi un bel pezzo poi, come stavo dicendo prima, questi erano dei re, no? per cui dei principi scienziati, erano cose del genere, astronomi e quindi vestivano, diciamo, in maniera più ricca rispetto agli altri personaggi che bene o male sono pastori, no? pastorelle, cose così per cui io direi che per farli differenziare un attimo dagli altri a parte che mettergli vicino il cammello perché quello poi sui presepi si fa di solito sono molto più colorati e con colori, ecco, vivaci potete anche aggiungere qua l'oro, l'argento, eh cioè il filato color d'oro, color d'argento, eccetera io in questo ho utilizzato il colore qui che è arancione brillante, adesso non so, mi sembra rossiccio però in realtà è arancione poi il viola, quindi ho fatto la base qua viola, un pezzettino di viola e l'arancione tutto il corpo poi qua sopra ci ho fatto una catenella dopo, eh, dopo qui ho fatto una catenella gialla anche le braccia ho fatto un pezzo arancione un pezzo viola, cioè, vabbè, la parte rosa poi il viola, l'arancione poi ho fatto questa catenella qui uguale a questa, sempre successivamente il volto con il rosa questa barba qua, vabbè, si poteva anche fare un po' meglio il velo con questo viola poi ho fatto le due catenelle che riprendono un po' questa cosa questi due colori, sempre dopo una con il bio, scusate, l'arancione e una con il giallo queste le abbiamo fatte anche sull'ultimo cestino quindi voglio dire sono catenelle, no? prese sopra dopo aver lavorato tutto questa coroncina che me la potevo anche risparmiare infatti credo che la dispo e poi la rifaccio meglio però, vabbè, anche qui sono andata a riprendere qualche maglia ho fatto un po' di pioppiolini però non è che mi piace molto e quindi credo che la vada a rifare vedremo se ho tempo o meno poi un sacchettino cioè praticamente qualche maglia bassa sono andata su ho stretto con un fiocchetto e basta insomma, ecco questo è uno dei tre adesso non so chi poi il poverino qua non ha ancora le braccia perché non l'ho terminato dall'anno scorso che sta così e vabbè lo sistemerò a breve il filo ce l'ho perché l'ho messo da parte quindi però credo di farle le braccia tutte di questa celeste con come ho fatto qui un pezzettino di blu ma senza mettere altri colori perché dopo diventa troppo complicato allora qui che cosa ho fatto? sempre il copricapo un pochino più lungo rispetto a quello di Giuseppe e ci ho fatto un po' di tapestry qui cioè praticamente ho alternato un colore con un altro no? mentre stiamo a fare la maglia ho fatto questi quadrettini qui è brutto qua però vabbè tanto sta così è un po' pazzetto poi per quanto riguarda il copricapo quindi ci ho messo qui non ho fatto colore non ho fatto niente il solido laccetto con il fiocchetto ho fatto solo i baffi la boccuccia agli occhi la base è semplicemente con questo celeste qui e ripeto le braccia andrò a fare il celeste poi non so che cosa gli metterò ma credo un'altra cosa simile a questa ok l'altro il terzo personaggio uguale ho fatto un pochino di tapestry qui cioè ho alternato il giallo con il verde su un pezzettino e poi invece in questo qua ho fatto tutto il vestito verde anche le braccia semplicemente verdi rosa e verdi il copricapo sono arrivata diciamo alla stessa misura di questo qui sono andata a bordare un attimo a maglie basse come ho fatto anche qua successivamente qualche ricamino qui cioè di colore differente rispetto all'opposto quindi il negativo e il positivo e qua anche ci ho messo qualche maglia così giusto vabbè mi inventavo lì per lì andando con la lavorazione quello che mi piaceva fare e ci ho messo a questo gli ho messo una specie di pacchettino in mano questo qua con qualche maglia bassa così voglio dire è semplice farlo si viene su in tutti e quattro i lati e poi si fa il sotto e si agganciano tra di loro questo è molto semplice non è che bisogna fare grandi cose ecco io va bene visto così questo è orrendo però non saprei che cos'altro dirvi perché questa è la vostra fantasia che si deve un attimo andare a sbizzarrire quindi vi faccio vedere i miei di Maggi e magari ne farò anche altri non so quando metterò sul mio negozio Etsy magari questi qua e ne potrete vedere anche altri forse se qualche volta capitate da quelle parti e li vestirò ogni volta con quello che mi viene in mente che mi piace lì per lì ecco non c'è una regola fissa ma sinceramente non c'è una regola fissa neanche per Maria Giuseppe certo loro sono un pochino più vincolati perché Maria vestito bianco velo celeste è chiaro è normale Giuseppe anche come lo vuoi vestire cioè il vestito qua marrone oppure più chiaro più scuro beige però quello è su questi qua ci possiamo sbizzarrire un pochino di più anche sui pastori non possiamo fare cose perché erano voglio dire persone semplici che vestivano in maniera semplice e tranquilla ecco quindi dove ci possiamo sbizzarrire un pochino di più sono proprio i re magi va bene io con questo vi saluto non ci dobbiamo dire altro vi auguro buon natale anche in questo video e successivamente faremo altre cosine credo almeno per il natale non lo so non vi anticipo nulla anche perché devo vedere come vengono le sto preparando quindi devo vedere se mi vengono male non le metto è chiaro sul canale se dovessero venire accettabili ci penso se vengono bene le metto sicuramente non le metto